ciao a tutti ragazzi sono narco e benvenuti sul mio canale oggi siamo su Rainbow Six Siege in beta è possibile scaricarsi il gioco in beta test fino al primo dicembre perché il primo dicembre uscirà il gioco completo ora io è la prima volta che ci gioco quindi tasti altro non so niente qua c'è addirittura c'è una parte di tutorial dove è possibile guadagnare qualcosa e ti spiega qualcosina io qualcosina l'ho vista però diciamo che l'ho stretto necessario ecco e ci andiamo a fare una partita vediamo un po' come questo Rainbow Six Siege allora qua c'è Casual e Ranked però per fare questo non lo posso fare quindi farò questo facciamo un Casual facciamo un Casual si trova la partita ok difendi qua posso scegliere solo questa classe fucile no fucile metto che cazzo è qua ok prendo questo che quello posso prendere mitragliettina questo per difendere va bene e lo scudo deploy ok e poi tra l'altro non so neanche come si fa però va bene non so neanche non so neanche il biohazard container eeeh una porca puttana cazzo è tosto cazzo è tosto cazzo è tosto Abbiamo bisogno di trovare una bomba Allora partiamo con la macchinetta Non lo so che fare Senta pure I really hope they're not like in the basement So I can use a I've found one Your drone has found a bomb Your drone has found a bomb Insertion in ten seconds Five seconds Seconds First floor Hide the camera Located a bomb Make your way to its location What do you guys want to do A or B? A's closer dude He's got the defuser Excessive Which one do you want to do? Yo can I get to someone else I'm a sniper Yeah here drop it You must recover the defuser The defuser is now secured Charge going on Is there any good sniper spots around here? No I'm sorry That works Tay you coming in Oh I thought I was following you I was just behind a door of a shield Nope that would be me No Yeah I'm the thermite no 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 tano i i i i i i i right here i'll throw an amp downman yep yeah frag going in oop there's a guy right there i 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 I'm right under him, it's only better for us. What the fuck I just unloaded out of why don't they die he just turns around and shoots me Where I just hit him like oh my god, I hate this Take off aim assist yet, yeah, but no aim assist only works in terrorist hunk That's what it says in the shed Can you get over to this door Oh shit, that guy's That guy's bleeding out I can't help him Oh pain, I don't see anyone on the center Think they're by A? Yeah, they might be Well, have you looked up above us? Uh, on the second floor? Yeah, I'm looking right now Here's someone destroying something No, it's me walking through wreckage Yeah, they're not on the sensors here, they might be heading to A Let's just hold it down They're spotting me on a fuckin' drone Yeah, we got this Time expires in 10 seconds Yeah, they won't be able to plant it, we'll just hold it out Oh Oh Eh, it doesn't matter, they can't do shit Dammit! I died with one second left There we go I died with like five seconds left Oh well, we'll take the win Oh well, we'll take the win Oh